Sono ripresi questa mattina nel ritiro di Novara gli allenamenti della Salernitana. I Granata impegnati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro di scarico muscolare in palestra e piscina presso il centro sport cube di Cameri. Il resto della squadra, ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da lavori atletici e partite a pressione. L'allenamento è terminato con una partita finale. La preparazione dei Granata, riprenderà domani alle ore 14.30 allo Stadio Arechi. L'allenamento si svolgerà a porte chiuse.